Era stato condannato a 9 anni e 4 mesi il 25 ottobre scorso Gio Battista Corradduzza, un 51enne di sorso, per duplice tentato omicidio nei confronti di due fratelli sassaresi di 22 e 25 anni, con un processo celebrato con rito abbreviato. Ma due settimane fa gli sono stati concessi i domiciliari per motivi di salute in casa di un nipote, 4 ore di libertà al giorno. I fatti si sono verificati il 21 aprile del 2018 nel quartiere di Latte Dolce in piazza Bottego, a poca distanza dall'ex sede del CERT. Verso l'ora di pranzo, dopo ripetute minacce telefoniche, i tre si erano dati appuntamento per un chiarimento in seguito a una lite per futili motivi. Ma la discussione è presto degenerata, i due ragazzi si erano presentati armati di bastoni, ma Corradduzza ha estratto un coltello, riuscendo a colpire i due, uno all'addome e l'altro alla spalla. I feriti erano stati soccorsi dagli operatori sanitari del 118 e accompagnati al pronto soccorso, dove gli erano stati diagnosticati rispettivamente 7 e 5 giorni di cure. Corradduzza era invece scappato, ma nonostante si fosse barricato in casa, era stato arrestato dagli uomini della squadra volante, che lo avevano trovato nascosto in cucina con la lama, che aveva utilizzato per ferire i fratelli ancora tra le mani.